E ciao ragazzi qui è Sabit e benvenuti in questo nuovo video tutorial su Dragon Ball Z Kakarot Ragazzi cosa che mi spinge a farvi questo tutorial? Praticamente in tutto l'arco narrativo di Dragon Ball Z Kakarot non dovete commettere il mio stesso errore Perché arriverete ad un certo punto che vi servono queste sfere Ora vi faccio ben vedere, nel frattempo ci facciamo anche un mini giro Praticamente questo tutorial è basato solo e esclusivamente su come potenziarci i nostri attacchi Considerando che io adesso sono con Trunks e sono proprio all'inizio della saga degli androidi Praticamente dovete prendervi queste sfere perché vi possono essere molto ma molto utili In tutto l'arco narrativo di Kakarot noi possiamo andare in esplorazione prima di iniziare qualsiasi missione Allora ragazzi avrete bisogno di tutte queste sfere Queste sfere possono variare, ecco infatti state vedendo, che possono variare in base al colore Queste verdi e queste rosse e ci sono anche delle blu Io vi straconsiglio prima di iniziare qualsiasi, oh un campo da calcio guardate Vi stavo dicendo che vi straconsiglio prima di iniziare qualsiasi missione in tutto Dragon Ball Z Kakarot Di farvi un giro in tutto il mondo Vabbè potete vedere pure tramite la mappa Vabbè non è questa perché io adesso sto all'interno di una città Perché io tecnicamente dovrei andare a casa di Goku adesso Però non del tutto Ero andato qua per comprarmi qualcosina Però cose che mi ha spinto a farvi questo tutorial Siccome tutto Dragon Ball Z Kakarot ripercorre il cartone C'è un certo punto che dovremo affrontare il Dottor Gelo Che come voi ben sapete non possiamo usare attacchi energetici Ok nel frattempo ci facciamo pure questa boss fight Ok io uso pure Trunks Comunque vi stavo dicendo che comunque per prenderci le sfere ci sarà ad un certo punto Che dovremmo usare queste cose qua Però io vi straconsiglio ovviamente anche di farvi questi mini giochetti Queste mini boss fight Nel frattempo divento Super Saiyan Ok 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 aspetta Eccolo il drone Una cosa è che quando fate le boss fight e ci sono questi piccoli droni Mi raccomando ragazzi occupatevi prima Ovviamente occupatevi sempre prima dei droni E poi pensate a Perfetto E guadagnate altri punti Altre sfere E fate questo ragazzi Che ve lo straconsiglio Poi per quanto riguarda invece Lo sapete come in Dragon Ball Xenowars Bene o male in Kakarot c'è più o meno la stessa identica cosa Ma vi faccio vedere Aspettate Andate su oggetti E dovete andare qui Su vita Su vita drink I vita drink sarebbero le capsule Sarebbero le capsule Come in Xenowars Le capsule di energia Allora Hanno un costo che può variare In base Questa qua Perché questa mi ricordo che costa 1500 punti Come si fa invece a prendersi la roba La roba invece Sì lo so raga sto andando da un discorso all'altro Ma dovete capire bene Perché bene o male il concetto è lo stesso Per prendersi le abilità Per potenziarci i nostri attacchi Nel frattempo possiamo pure andare a casa di Gohan Oh c'è una navicella di Freezer Aspetta La distruggiamo pure E più andiamo avanti In questo gioco No 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 Sennò mi tocca un'altra boss fight E vi stavo dicendo che comunque Dovete anche andare molto in esplorazione Perché il gioco è basato molto su questo Basato molto Ecco Ad un certo punto ci sarà Recaio Che ci dirà basta Ma io non mi fermo Perché dovete molto cacciare pure C'è una potenza dentro di te Lo so Trunks Però comunque questo è il tutto Io comunque che vi posso dire Per potenziarci i nostri attacchi Dovete andare su personaggio Andate su personaggio E cliccate sopra Trunks Andate sul griglia dei suoi attacchi E vedete Qua potete modificare Che cazzo sto facendo Potete modificare i suoi attacchi Come era in Xenoverse Anche qua c'è la stessa identica cosa Per l'attacco supremo Attenzione Perché l'attacco supremo Non c'è Perché l'attacco supremo In base al personaggio Che se abbiamo Goku La super energia sferica Si sbloccherà molto Ma molto in avanti nel gioco Siccome ho Trunks L'unica cosa che c'è È la trasformazione in Super Saiyan Per quanto riguarda i Saiyan E questo già c'è Poi Andiamo nei suoi attacchi Ora vi faccio vedere Come potenziarli I suoi attacchi Vedete Qua vi dice Guardate Sfere Z Necessarie È importante ragazzi Avere queste sfere Vedete C'è il rosso E il blu E il verde Quelle altre invece Quella Sottospecie di bolla di sapone È per lo più Una Z Semplice Quella è rara E quella ultra rara Sono facili da trovare Non vi preoccupate Che sono facili Da trovare Anche per Krillie È la stessa identica cosa Però adesso Krillie è di supporto Non è che ha Una griglia di attacchi Ecco vedete Ecco io Volendo Guardate Mi posso potenziare L'onda energetica Di Krillie Posso pure farla diventare Anche il cerchio magico Oppure Posso con tutta tranquillità Perché Ho tutte queste cose Che mi permettono Tutte queste sfere Che mi permettono Di potenziare L'attacchi di Krillie Aspettate Che moce Lo potenziamo pure bene Che cazzo ho combinato Che sono nell'enciclopedia Che non mi interessa Ogni tanto buttateci Perché vi dà delle medaglie Ecco vedete C'ho più sfere blu Guardate A destra dello schermo Più sfere blu Rosse Verde Bolle Leggermente Quelle mega Comunque È interessante Fare sta cosa A me Mi è piaciuto Tantissimo Mi è piaciuto Davvero tantissimo Allora Ovviamente Ci andiamo subito Ad equipaggiare A Krillie La sua Onda energetica Più potente Di livello 2 Il cerchio magico L'esplosione solare Però l'esplosione solare Raga è un'ottima abilità Quindi ci teniamo solo L'onda energetica Il cerchio magico A Krillie Ce l'abbiamo levato Arriviamo almeno A casa di Goku E penso che per oggi Il video può andare bene così Dovete andare molto Anche a caccia Ragazzi Che ci troverete Degli animali Un po' particolari Perché qua C'è sia L'animale semplice Ma l'animale leggendario Attenzione Attenzione Perché qua Ne vale proprio La pena Continuare A giocare Dove è la casa di Goku Nel frattempo Eccola lì E poi Per indirizzare bene Tutto il fascio di luce È qui Ora io sono arrivato A casa di Goku Con tutta Tranquillità Vai giù Fammi liberare Da questi Ok Sono arrivato A casa di Goku Va bene ragazzi Io il video tutorial Lo posso pure chiudere qua Prima di salutarvi Vi volevo dire Che a quanto pare Dragon Ball Z Kakarot Non mi sta dando Problemi di copyright Volendo Potrei iniziare Anche una serie Su Dragon Ball Z Kakarot Va bene Ma questo è un tutorial Ma questo Questa serie La farò molto Ma molto in avanti Sul canale Non mi domandate Subito Perché Non ve la posso fare Quindi ragazzi Con la visione dei Trunks E con la casa Del nostro protagonista Goku Vi invito a lasciarmi Un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale E qua da Sabit È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video